Allora ragazzi, sembra che Concord alla fine sia riuscito a fare qualcosa di buono per il mondo del gaming con il suo meraviglioso fallimento E a quanto pare il colosso cinese Tencent avrebbe tagliato i fondi per lo sviluppo del nuovo Battle Royale dedicato a Sniper Elite E' successo che praticamente... prego Angelo La mia domanda è... ma che cazzo fai un Battle Royale su Sniper Elite? Questa è una domanda che ci siamo posti in tanti in realtà Però c'era anche chi era abbastanza entusiasta all'idea Allora, il gioco era in sviluppo da Rebellion ma i fondi arrivavano prevalentemente da Tencent E a quanto pare Tencent si sarebbe cagato in mano o comunque preoccupato abbastanza vedendo il fallimento di Concord E la maniera in cui sono stati bruciati questi 400 milioni in Sony E quindi avrebbe completamente cambiato idea sulla propria volontà E sull'esigenza da parte dei giocatori di avere un altro fantastico Battle Royale In un momento storico in cui siamo già abbastanza pieni di Battle Royale Soprattutto un genere che diciamo era di moda forse 5 anni fa Il gioco si chiamava Project Archipelago ed era un team based multiplayer Battle Royale Dove praticamente c'erano delle squadre di 3 giocatori che se la davano di santa ragione all'interno di quest'ambiente Che andava sempre... Probabilmente era basato più sul combattimento a distanza rispetto a quello tradizionale Ma il punto è che comunque era all'interno di questa mappa Con la classica cosa che si restringe e bla 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 E si aspettavano di fare una closed alpha di qui a breve Questo gioco, questo Project Archipelago era già stato criticato dai fan Perché inizialmente si credeva che sarebbe stato un nuovo single player con elementi multiplayer In realtà poi sul canale ufficiale di Rebellion venne fuori la notizia che sarebbe stato un Battle Royale live service E i fan non l'ha preso in maniera particolarmente allegra Da un certo punto di vista è come se riuscissimo a utilizzare Come se il mercato riuscisse a utilizzare i fallimenti di altre aziende Per rendersi conto che forse alcune scelte non sono esattamente le più intelligenti Sony non l'abbia capito sta cosa ancora Sony può non averla capita ma senza ombra di dubbio il fatto che sia successo quello che è successo con Concord Li porta a riflettere e a ragionare forse in maniera diversa sulla maniera di investire i propri soldi per il futuro Quello che noi sappiamo è che loro non hanno ancora cambiato strategia E che nelle loro intenzioni ancora c'è questa ripartizione 60% per i giochi live service, 40% per i giochi single player Che è una cosa negativa sicuramente per noi che siamo giocatori tradizionali Però quando ti arriva una mega corporazione come Tencent Che economicamente mi sembra che sia messa decisamente meglio rispetto a Sony E che tecnicamente può permettersi molti più fallimenti di quanti non possa permettersi Sony Ma Tencent che impara dal fallimento di Sony è sicuramente una cosa positiva E che mi lascia sperare quantomeno che i diversi publisher si guardino reciprocamente A quelli che sono i fallimenti degli altri Sto pensando in particolare a Skull & Bones di Ubisoft E altri progetti fallimentari che ci sono stati in questi anni Che possono in qualche modo aiutare a riorganizzare il mercato Verso una direzione che sia un pochino più opportuna Rispetto a quella che si sta prendendo ultimamente Sai a me fa sempre strano quando certe aziende si accorgono Che stanno commettendo una cazzata solo vedendo gli altri sbagliare E' come se le analisi di mercato o come se tutti i reparti marketing di queste aziende Non facessero esattamente una minchia E' strano, non si capisce come sia possibile tutto questo Però a conti fatti se guardiamo Sony è ancora messo lì che dice 60% e 40% Cioè quella è la strada da seguire per loro Ma sì, ma dipende da come lo fai Se lo fai con un Call of Duty o un Fortnite va bene Ma se lo fai con Concord c'è un problema E poi vorrei capire, ma chi cazzo è che l'ha avuta st'idea di fare il battle royale dei cecchini Cioè sembra veramente divertente come pulirsi il culo con un cactus Sì, fa molto prima guerra mondiale da trincea Tutti messi lì bloccati che si sparacchiano l'un l'altro L'hai poppato una testa, spara gli, ah ecco un'altra testa eccetera Cioè esatto, sponi e poi tipo pshh, morto Cioè, boh, vabbè Comunque vabbè Tencent vale quasi 500 miliardi di dollari Sony non è neanche tipo un 105, una roba Neanche non ci arriva il 105 Quindi io mi sorprendo del fatto che serva Concord Per fare capire a un'azienda valutata quasi 500 miliardi di dollari Che il battle royale sui cecchini è una cagata Ma poi comunque di battle royale ne abbiamo già, ma non finire Cioè Warzone, Fortnite, Apex e tanti altri Cioè c'è davvero bisogno di altri battle royale Come c'è bisogno di altri hero shooter? No, penso proprio di no Forse Concord è stato il caso più eclatante che c'è stato negli ultimi anni Non so se sia stato Concord o Scull and Bones In realtà quello più eclatante Ma forse per il fatto che Sony aveva quelle aspettative nei confronti di Concord Magari la situazione è stata un po' diversa rispetto a quella di Scull and Bones Che c'erano tutti i discorsi legali in mezzo Quindi gli è servita l'esperienza Concord Non lo so, perché comunque non è né il primo né l'ultimo Dei live service che arrivano in maniera totalmente disastrosa sul mercato Fate qualcosa di diverso, cercate di innovare sul serio Basta battle royale, basta spara tutto Cioè ce ne sono già troppi Ma poi la gente perché dovrebbe giocare a sniper elite, battle royale E non per esempio a Warzone? Cioè vorrei capire Che ragionamenti fanno queste persone? Non ho idea di come volessero giocarsi il franchise di sniper elite Che tecnicamente sì, dovrebbe essere molto più basato sulla distanza La precisione e cose del genere Ma metterlo in un battle royale Con le pareti che ti vengono addosso e ti chiudono lo spazio Mentre tu cerchi di tutto Non riesco proprio a immaginare come lo volessero gestire E probabilmente non lo sapremo mai, voglio dire Meglio così Sì, probabilmente è meglio così alla fine